Grazie davvero per questo bellissimo intermezzo, soprattutto il secondo canto ho trovato che è stato una poesia straordinaria. Sì, è un pochino il nostro spirito di cercare di collegarci anche con tutte le istituzioni che coinvolgono la Gioventù, quindi il Collegio del Mondo Unito. Devo dire che quest'anno non l'ho citato prima ma chi mi conosce sa che poi tiro fuori le cose un po' alla porta perché mi stanno nel cuore. Quest'anno abbiamo lavorato anche con una particolarmente bene, con un'associazione che tiene insieme tanti giovani studenti delle università europee, la EGE, in particolare la EGE di Trieste che è qui rappresentata da Flavio Landi e di cui c'è un bel gruppo, una bella delegazione di studenti, di rappresentanti, di soci. Ecco, io sono molto contenta di questo perché credo che appunto serva a creare sempre di più la rete dei rapporti tra queste realtà giovanili che si strutturano per creare un nuovo tipo di sfera pubblica, un nuovo tipo di rapporto e di relazione nel mondo attraverso gli strumenti più diversi. Bene, comunque torniamo alla nostra premiazione e a questo punto a proposito di scuole, io vorrei chiamare per la premiazione, come è il mio foglio, la signora Caterina Mayeron che ha avuto la segnalazione nella sezione scuole e che lavora nell'istituto socio-pedagogico di Udine. Caterina Mayeron. La poesia è stata scritta da molti giovani insieme che sono di diverse nazionalità, mi pare di diverse classi. Grazie per questa segnalazione, io sono un'educatrice di un centro con dei ragazzi disabili che stanno affrontando da un paio d'anni questa esperienza, questo laboratorio di poesia e abbiamo scritto questa cosa che si intitola Il confine me lo immagino, ve lo leggerà Marco che è uno dei ragazzi che ha scritto questa poesia. Il confine esistono perché esistono paesi e si intorno per essere attraversati, attraversare il confine e sentire la mancanza della propria casa e provare tristezza. Quando c'era la guerra in Bosnia sono dovuto scappare, non ho avuto paura ad accreversare i confini, non avevo casa, eravamo profunghi e stavamo nel campo profunghi in Danimarca, attraversando il confine da solo, sento la mancanza dei genitori ma soprattutto il mio fratello, attraversando un confine. Si possono vedere anche i paesi e i mondi vivere persone diverse da noi, mi sento bene di qua, nel confine. Non si può passare di là, mi fa un po' paura, sicuramente piove di là ed è freddo. I confini non esistono quando sono la mia famiglia, i confini tante volte sono nella nostra testa. Il confine ma io immagino, drammatico, come un filo invisibile, pieno di case, di legno colorato, come una piccola seppia con i fiori arancio e rosa, fatto di alberi splendente, illuminato dai fari fatto di montagne e prati. Grazie. E adesso con due poesie segnalate rispettivamente di Monica Santin, di Alexandra Circovich, il liceo, il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, Slovenia, con il suo professore Giulio Micheli. Allora, le due ragazze non ci sono, magari io invito il professore a leggere una delle due poesie, che siamo un po' in lavoro, almeno una, la facciamo leggere. Il tempo inizia con la nascita, si sentono i primi pianti di un neonato, le prime lacrime della sua vita. Le lancette dell'orologio si spostano, vanno avanti, passano gli anni, ma esse non si fermano. Si fermeranno quando la vita di quel neonato cresciuto morirà. La morte sarà il suo ultimo minuto, ultimo minuto del suo tempo, del suo sospiro. Grazie. 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 Allora, cominciamo con Elvira Leo. Buonasera, sono Elvira Leo ed ho undici anni, frequento la scuola Tanta Ligieri di Avellino. Prima di leggere la mia poesia vorrei ringraziare la giuria che mi ha permesso di stare qui e i professori Gabriella e Ottavio. La mia poesia si intitola Le porte della poesia inizia così. Ecco le grandi porte della poesia, luminose di pace e amore e amicizia. Un leggero fruscio che ti accarezza il viso, un semplice grande sorriso. Poesia è esprimere senza celare la felicità o la tristezza. Poesia è la vita che anche nei momenti più tristi e scuri si ricorda di noi. Poesia è l'illuminazione nella notte più buia. Poesia è la voce in cui il cuore da sfogo esprime, manifesta, espone le sue emozioni più forti. E adesso Vittorio Fiore, che anche lui ha 12 anni. Buonasera, io sono Vittorio Fiore, vengo da Avellino e frequento la scuola secondaria del primo grado di Antadichieri. La mia poesia si intitola Ti tendo semplicemente la mano. Ti tendo semplicemente la mano. Per far odire la mia voce a te che non odi, romperei le barriere del suono. Per danzare sfrenatamente in un prato con te che è claudicante, trasci il tuo corpo. Spazierai via con una clava ogni barriera. Per godere negli immensi spazi celesti e marini, insieme a te che non conosci la luce, percorrerai ripetutamente le strade battute da un mero. Per dormire una notte tra i tuoi bracci straniere, ascoltando le storie lontane, lascerai il teore del mio letto. Per non sognare, per non deluderti, per non peccare, ti tendo semplicemente per un attimo una mano. Grazie. 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 Grazie.